Dopo giorni di trattative, il Foggia ufficializza Eugenio Dursi, elemento che arriva con la forma del presso condiritto di riscatto dal Napoli. Dursi è stato scelto per sostituire Alessio Curcio, secondo il tabellino dei marcatori della scorsa stagione, 12 gireti approdato a Catanzaro. L'asse con i partenovei si può rinnovare con l'approdo in rosso-nero di Filippo Costa, laterale classe 1995, reduce dalla stagione in presto al Parma. In Latina si prepara ad abbracciare Alessio Riccardi, il classe 1-1 è cresciuto a Trigoria ma è pronto per una nuova avventura per rilanciare la sua carriera. Ad attenderlo c'è la squadra Pontina che vuole fare un buon campionato di Serie C e vuole l'ex numero 10 Primavera con sé. Ha qualcosa da portare a termine, Umberto Eusebio con la maglia della Juve Sabbia, otto ritmi, si assegno prima dello stop forzato dell'antidoping, prima della soluzione definitiva per il bomber, tornato all'Alessandria per fine prestito. E' in corso la trattativa per riportare il centro avanti alla corte delle Vespe. Il Pescara passa ai fatti per Marco Sau e avanza la propria offerta all'entourage del calciatore. L'attaccante, vecchia conoscenza del DS dei ricarichi, nel 2011 fu a un passo dall'acquisto dal Cagliari e attualmente svincolata e sulla scrivania del suo agente è stata recapitata la proposta bianca-azzurra. Un contratto annuale con opzioni in caso di B, il 34enne ci sta riflettendo.